I poteri originari dispiegheranno la loro potenza Bene Toxicroak, vai! Perfetto, bel lavoro, Krogan! Quelli sono di Alga, Palkia e i tre leggendari guardiani del lago Ho sempre desiderato poterli vedere, ma decisamente non in questa situazione Devi fermarti, Cyrus! Non capite che è il momento di arrendervi? Ne ho avuto abbastanza! Scelgo te, parati! Vai, Golbat! Ora! Presto, Pikachu! Usa fulmine! E tu, Piplap, usa bollarazzo! È l'occasione per salvare i guardiani del lago Sì! Avete sentito tutti? Let's go! Ah, Zephyr, sono io! Va tutto bene, amico Eccomi, Mesprit! Sono io, Lucinda Non preoccuparti, Yuxi, sono io, Brock Yuxi? Sono scomparsi entrambi Ottimo lavoro, Staraptor e Glyscor, ritornate! Che ne pensi, Cyrus? Che cosa farai ora che non hai più il controllo di Dialga e Palkia? Non ne sarei così sicura No, non ci credo Sono ancora qua Dialga, resisti! Cosa state facendo? No! Sono il nostro potere, ormai È impossibile liberarsi dalla Rosso Catena Che contiene i poteri originari Che cosa sta succedendo? Devono essere quelle gabbie rosse La Rosso Catena contiene i poteri originari E controlla Dialga e Palkia Cosa succede? Fa molto caldo Sembra che siano loro a provocarlo Wow, riesco a sentirli Ci chiedono di aiutarli a salvare Dialga e Palkia Anch'io riesco a sentirli Perché avviene questo fenomeno, Camilla? Perché i vostri cuori si sono uniti a quelli dei Pokémon leggendari È meraviglioso, amici Dialga, padrone del tempo Palkia, padrone dello spazio Rilasciate i vostri poteri e create un nuovo universo davanti a me Scappate, presto! Sì! 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 Sì!